... ... ... ... ... ... Mamma mia che disastro! Tutta la mattina in giro per Roma e non abbiamo un'inquadratura decente! Mi dispiace ragazzi, le scene sono inutilizzabili! Anche quella è Colosseo! Quelle sono le peggiori! Tra rifiuti e cantieri, sembra una discarica. E quella a lungo devere? Lasciamo perdere. Nelle uniche inquadrate una buona si vede un albero che è crollato su una macchina. Allora come stanno le scene che abbiamo appena girato? Terribili. I prof di cinema ci hanno dato un compito troppo difficile. Valorizzare Roma è impossibile. Tra i cassonetti che sono pieni di rifiuti, le strade che sono piene di buche, poi ci sta il Colosseo che, vabbè, lasciamo perdere. Allora che facciamo oggi, è il nostro ultimo giorno di riprese? Io ci rinuncio, non so che fare. Aspettate, ho un'idea. Finora ci siamo concentrati sul centro. Perché non proviamo a spostarci? Spostarci dove? Non lo so, in periferia? Se il centro è stato un disastro, figuriamoci in periferia. Non lo so. Secondo me potrebbe nascondere delle sorprese. Dove vorresti andare? Tiriamo a sorte. Allora? Ragazzi, posso ripescare? Perché? Sappi, per favore, fammi ripescare. Allora, che cosa è uscito? Eh, San Basile. Ragazzi, è stato un dolore lavorare con voi. Io me ne vado. Luca! Che c'è? Io a San Basile non ci vado. È troppo pericoloso. Lo dicono pure in tv. Aspettami, vengo con te. Scusami, Sofie, ma neanche me la sento. Scusa, Sofie, devo andare a giocare alla finale. Vabbè, se non volete venire, mi arrangio. Dambi, ti aiuto io. Ciao. Andiamo? E fa bene, San Basile sia. Dai ragazzi, chiudiamo il progetto. E ragazzi, avete provato a contattarli? Vanno il cellulare staccato. Che facciamo? Sono via da tre ore. Secondo me dovremmo chiamare aiuto. Potrebbero essere nei guai. E ragazzi, guardate là. Che è successo? Dov'è Davide? E l'attrezzatura? Stavamo andando a San Basilio. E ci stavamo guardando intorno quando dei ragazzi ci hanno rubato i telefoni. Davide è scappato con l'attrezzatura. Dobbiamo aiutarlo. Io me l'aspettavo, ve l'avevo detto. Quello che hai fatto è fatto. Adesso pensiamo a Davide perché San Basilio se l'è preso e noi ce lo riprenderemo. Metti la ragione, dobbiamo aiutarlo. Forza. Andiamo. Andiamo, andiamo. Ma non era meglio il corso di fotografia? Aspettatemi. Aspettatemi. Andiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.